Ciao a tutti, sono Giovanni Gregoretti, l'insegnante di basso elettrico della scuola di musica da capo. Purtroppo quest'anno non ci saranno gli open day e quindi vi presento il basso online. La cosa che preferisco del mio strumento è che all'interno della band si fa fatica a notarlo, bisogna tirare le orecchie per sentirlo ed è proprio quando è assente che sentiamo la sua mancanza. In più apprezzo la ricchezza degli strumenti bassi, cioè posso decidere di suonare il basso elettrico, posso decidere di suonare il contrabbasso, sono due strumenti comunque affini che insegno. L'altra cosa è la possibilità di passare da un basso elettrico a un contrabbasso a un oculere basso mantenendo circa la stessa tecnica. Posso passare da un repertorio più rock con il basso elettrico a un repertorio più acustico con il contrabbasso. Mi stavo dimenticando, c'è anche il corso di uculele basso per avvicinare i più piccini allo strumento. Mi stavo dimenticando, c'è anche il corso di uculele basso per avvicinare i più piccoli. Grazie.